Ma che c'è un bravissimo! Presidente, come è andata oggi la gara in questo qua di Odolo? Ma sì, oggi siamo qua a Odolo, è andata abbastanza bene, e nonostante non sono proprio in formissima, ho chiuso il secondo posto assoluto dietro a Simone Arici. Percorso bello, molto infangato, però divertente, molto dura, gara molto dura, il caldo ci ha voluto bene, il tempo ci ha voluto bene, diciamo, e niente, lascio la parola a Diego che anche lui è partecipato alla gara. Un percorso molto bello, molto impegnativo e siamo qua, è andata bene. Bravissimo! Tu sei un vero drago! Sì, sei un vero drago! Grazie. Grazie.